I siti di informazione online con la Sicilia web a Catania, tre furti notturni con spaccata, notte da incubo per i negozianti catanesi messi a segno tre furti con il metodo della spaccata, presi di mira il negozio Papini in Corso Italia nel quale hanno portato via capi costosi di abbigliamento e accessori, un negozio di biciclette in via Monserrato dove hanno portato via soltanto un computer portatile e il rivenditore di strumenti musicali Jepsen di via Gabriello Carnazza. I carabinieri di Catania per tutta la notte hanno setacciato la città senza trovare però i ladri.